Grazie per essere intervenuti in questa conferenza stampa indetta da qualche giorno e della quale già avevamo parlato, però nel momento in cui abbiamo deciso di depositare al Tribunale regionale amministrativo di Salerno un ricorso per fare chiarezza su quello che è stato l'andamento dello spoglio elettorale e delle successive verbalizzazioni di tutte le operazioni che ci sono state nei 21 seggi nei quali è diviso l'elettorato agropolese. Abbiamo deciso di essere uniti in questo giorno come gruppi di opposizione proprio perché la cittadinanza tutta deve sapere che questa scelta che è a mio nome nella qualità di primo interessato e quindi titolare in interesse legittimo ad agire è stata comunque concertata anche con gli altri consiglieri di minoranza con i quali abbiamo deciso di seguire una linea comune che non è soltanto quella della critica e dell'opposizione in senso stretto ma una linea che guarda al bene del Paese e il bene del Paese deve essere basato innanzitutto sulla chiarezza del dato amministrativo perché la salvaguardia della democrazia parte dal dato elettorale e dalla difesa della linearità delle procedure che riguardano il voto in senso lato. Quindi questa è una scelta che abbiamo preso insieme anche se il ricorso è a mio nome. Ci tengo a precisarlo perché già come avete potuto vedere nel corso del primo consiglio comunale abbiamo dato modo di far capire che la nostra compagine consigliare oltre che unita su determinate motivazioni già in quel consiglio è un'opposizione anche ferrata e che guarda soprattutto a tutelare quel 49% di agropolesi che ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi. Quindi noi abbiamo questo onere oltre che onore, abbiamo metà Paese che ci guarda e oltre questo metà Paese, metà cittadinanza ci sono anche 6.000 agropolesi che non hanno votato e questo è un dato molto importante perché sono senza guida, non hanno creduto in nessuno e noi con la nostra opera ci rivolgiamo anche a loro. Ovviamente ci rivolgiamo anche ai cittadini che hanno votato questa maggioranza ma è chiaro, ci rivolgiamo a tutta la cittadinanza perché arrivare a verificare e arrivare alla verità di quello che è successo credo che sia doveroso e sia interesse di tutti a prescindere da chi ci abbia votato o meno. Quindi la scelta è stata fatta con tranquillità, ovviamente con molta serietà perché a dire la giustizia amministrativa in sede elettorale è una cosa anche difficile, non la si fa a cuor leggero mettere in discussione l'elezione non è una cosa che si fa come, faccio un esempio, un piccolo problema di diritto leso qua stiamo parlando dell'interesse della collettività ad avere il giusto riconoscimento del voto espresso dato che ci arrivano in continuazione istanze di agropolesi che addirittura, riassumendo, non trovano i loro voti addirittura anche di candidati, non trovano i loro voti in seggi sicuri seggi sicuri dove abbiamo votato anche noi e allora abbiamo deciso di agire e il risultato è un ricorso di 46 pagine 19 delle quali sono soltanto riferite tecnicamente ai 21 seggi con i dati matematici delle risultanze e delle incongruenze che ci sono state molto gravi a nostro avviso ma come ho prima detto nel corso delle precedenti interviste già appurate in sede di commissione elettorale ufficio unico centrale che è presieduto da un giudice togato quindi un giudice di carriera che per 11 giorni ha lavorato in quest'aula consigliare e noi abbiamo seguito tutti i lavori per 11 giorni ha riscontrato queste gravi anomalie, queste incongruenze ritenute talmente gravi che da portare il presidente ad inviare due sezioni alla procura della Repubblica competente per territorio e quindi alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania io non entro nel merito della negligenza, dell'imperizia o di altro che ha causato questi errori grossolani che sono stati perpetuati nelle sezioni ma lo faranno ovviamente le autorità competenti in questo caso la procura della Repubblica su iniziativa dello stesso presidente della commissione ma a noi interessa il dato amministrativo quello che emerge dai verbali è che lo stesso presidente della commissione ufficio centrale ha detto per alcune sezioni che l'unico organo l'unica autorità competente per verificare è il TAR quindi è doveroso per noi è stato necessario anche per quanto ha detto il presidente della commissione a dire la giustizia amministrativa competente e nel caso il Tribunale amministrativo di Salerno venendo poi a quelle che sono le specifiche incongruenze io voglio mantenermi proprio al ricorso e evidenziare come a pagina 22 per esempio c'è una specificazione di 4 gruppi di incongruenze che coprono le 21 sezioni dai dati di fatto analiticamente rappresentati sezioni per sezioni risultano 4 sostanziali gruppi di incongruenze tutte suscettibili di viziare radicalmente il procedimento elettorale i vizi possono così essere sintetizzati io devo per forza leggere parti del ricorso per puntualizzare quelle che sono le situazioni perché se no facciamo politica e non facciamo diritto amministrativo in questo caso la politica lascia il posto al diritto amministrativo gli avvocati che hanno redatto e depositato il ricorso proprio perché sono dei tecnici persone sere anche con idee politiche vicine o lontane dalle nostre hanno preferito oggi non essere presenti perché una conferenza stampa ha comunque una base politica loro restano i nostri tecnici di fiducia e preferiscono che ci sia io e gli altri amici della minoranza a presentare questo ricorso alla popolazione e ai giornalisti dicevo ci sono quattro gruppi in congruenze il primo è quello che c'è la non rispondenza tra le schede autenticate e la somma di quelle utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate e non utilizzate tale vizio è riscontrato nei verbali delle sezioni 1, 2, 4, 5, 7, 11 dove manca anche il numero delle schede timbrate 12, 13 nella quale non viene neppure l'indicazione delle schede effettivamente bollate mentre il numero delle firme apposte dagli scrutatori è semplicemente abnorme e alla 17 dove le schede bollate risultano addirittura superiori a quelle firmate dagli scrutatori poi c'è un altro gruppo di incongruenze quello dovuto alla mancata indicazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate tale vizio è riscontrato nei verbali delle sezioni 9, 10, 14 nella 14 il verbale non riporta neppure il numero delle schede bollate non ricavabile neanche dalle firme degli scrutatori indicate il numero superiore rispetto a quello delle schede da autenticare ancora la 18, la 19, la 21 nella quale le firme degli scrutatori sono indicate il numero superiore alle schede bollate ed addirittura al numero di quelle consegnate c'è ancora un altro gruppo quello è la mancanza di tutti i dati tranne quello dei votanti tale vizio è riscontrato nei verbali delle sezioni 15, 16 e 20 ed infine l'ultimo gruppo questi sono i macro gruppi dicevo la mancata indicazione delle schede effettivamente consegnate tale vizio è riscontrato nei verbali delle sezioni 5, 8, 9, 11 nel relativo verbale non viene neppure indicazione delle schede timbrate e 14 questo quindi è il quadro sostanziale che emerge dai verbali delle singole sezioni elettorali elettorali in aggiunta a tutte le altre numerose incongruenze poi specifiche riscontrate già constatate da come dicevo da presidente della commissione e ulteriormente diciamo verificate da noi e dai legali che hanno prodotto questo ricorso ora da questa situazione può trasparire o meno che ci siano state delle intromissioni anche esterne si può presumere noi non lo sappiamo ma proprio per questo abbiamo ritenuto di demandare la giustizia amministrativa nella soluzione di questo enigma addirittura che ci può essere noi dobbiamo stare tranquilli anche nei banchi della minoranza dobbiamo avere l'animo della tranquillità su quello che è stato l'andamento pre e post voto nei seggi elettorali perché ci sono troppe cose che non tornano stiamo parlando di 20 sezioni su 21 con criticità più gravi o meno gravi ma 20 sezioni su 21 poi nello specifico ribadisco sono 46 pagine di ricorso io non credo di potervi tediare leggendovelo tutto però l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione cioè è nucleato dalla giustizia dalla giurisprudenza dalla giustizia amministrativa sono nucleati dei vizi fondamentali per i quali si deve tornare alle elezioni praticamente e sono l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione non è il nostro caso questo l'arbitraria chiusura delle sezioni elettorali l'irregolarità della scheda e per quello che riguarda il caso nostro la non corrispondenza fra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate utilizzate ma non utilizzate una tale ipotesi costituisca causa di annullamento delle elezioni lo ha disposto lo stesso Tar Salerno sezione 1 la prima sezione è Tar Salerno con la sentenza 1132 del 29 aprile 2022 recentissima quindi perché? perché una situazione del genere dove non c'è un confronto reale nelle schede che sono state effettivamente utilizzate e quello che resta delle schede utilizzate per avere la somma di quelle che erano nei casi in cui ovviamente il dato delle schede iniziali sia stato verbalizzato ma in alcune sezioni non è stato verbalizzato quindi si parte proprio da una inconsapevolezza di tutta la procedura successiva che nemmeno il Tar può ricostruire ma soltanto il Presidente avrebbe potuto farlo come è previsto dalla legge che sia allora perché tutto questo dicevo perché può nascondere il caso conosciuto è la scheda ballerina cosiddetta nel gergo amministrativo elettorale che può fare il continuo giro e non c'è libertà di voto perché noi non l'abbiamo appurato e non è questa la sede ma questo tipo di incongruenze nella contabilità proprio delle schede può nascondere questo tipo di di dinamica diciamo elettorale di patologia del sistema elettorale che purtroppo si riscontra in posti lontani da noi sia culturalmente che che storicamente e che si vede nei film ovviamente i peggiori a mio avviso però ribadisco non siamo noi a giudicare non siamo noi a dire quello che bisogna fare ci sono ribadisco anche il consiglio di stato anche il consiglio di stato sostiene nella materia elettorale sono rilevanti fra fra tutte le possibili irregolarità ovviamente quelle sostanziali molte nel nostro caso quasi tutte sono sostanziali tale cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando per la mancanza di elementi o requisiti di legge sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato applicando questo principio il consiglio di stato una sentenza questa la 1067 2016 sostiene devono essere annoverate tra le irregolarità sostanziali delle operazioni di voto solo le carenze più macroscopiche è chiaro perché va salvaguardato il volere popolare è normale questo noi lo sappiamo è proprio per questo agiamo tra cui l'omessa sottoscrizione in calce dei verbali di sezione l'arbitaria chiusura della sezione elettorale come dicevo prima l'irregolarità della scheda la non corrispondenza effettivamente accertata tra il numero delle schede complessivamente autenticate la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate quindi in linea tar già tar salerno e consiglio di stato sono i casi che ci occupano perché vi faccio un esempio di una sezione una sezione che è stata che è stata trasferita la documentazione è stata trasferita alla propria della repubblica tra l'altro questa in sede di commissione per questa sezione l'ufficio centrale la 21 ha trasmesso gli atti della competente propria della repubblica ciò premessa pagina 8 del verbale è riportato in 1374 il numero delle schede indicato nel verbale di consegna in questo caso hanno evidenziato quante fossero le schede nel verbale di consegna in 10 sezioni questo non è stato fatto il plico che arriva dalla prefettura va aperto soltanto dal presidente del seggio che è l'unico incaricato del conteggio dell'accertamento del numero delle schede perché in quel plico possono esserci anche schede in meno o schede in più e incite poi su tutte le operazioni successive rispetto a quelle che si vanno a vidimare e bollare e sottoscrivere sono il numero degli elettori del seggio si accantonano quelle in più che possono poi essere riuverate in caso di elettori fuori seggio si procede alle operazioni di voto dopodiché voti effettivi voti schede vidimate e bollate non utilizzate si mettono da parte si contano tutti per avere la somma giusta con riferimento al primo dato e si trasferiscono fuori dal seggio all'ufficio elettorale questa è la procedura allora in questo caso a pagina 10 sono talmente tante le incongruenze qua che voglio prendo questa come come esempio a pagina 10 sono 1360 gli elettori iscritti alla sezione 1333 le schede da autenticare già questo non si capisce come non è indicato il numero delle schede avanzate 1424 le schede firmate dagli scrutatori quindi più di quelle degli elettori iscritti alla sezione 1274 le schede bollate da verbale a pagina 20 è riportato che due elettori sarebbero stati allontanati dalle cabine perché uno non presente nelle liste elettorali altro per aver introdotto telefono cellulare a pagina 27 sono 863 gli elettori iscritti alla sezione che hanno votato in effetti dovrebbero essere 861 perché due elettori sono stati allontanati a pagina 29 non viene riportata la cifra delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione né è stata fatta l'attestazione di corrispondenza dunque in questa sezione le incongruenze sono molteplici in primo luogo gli scrutatori hanno firmato un numero di schede 1424 superiore a quelle consegnate 1374 ed al numero degli elettori iscritti che sono 1360 in secondo luogo le schede firmate dagli scrutatori 1424 sono superiore alle bollate 1274 ciò detto non è poi possibile accertare la corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate 1274 e le schede votate 863 e quelle autenticate ma non utilizzate anche per la mancanza di quest'ultimo dato cioè non c'è il dato delle schede che sono residue nella sezione in esame il candidato attuale sindaco ha riportato 563 voti ho preso questa come ipotesi perché supera il dato che distacca il candidato Modelli Vassi da noi che sono 370 che poi non sono 370 perché sempre in questa sezione c'è un altro ci sono 42 voti che sono stati aggiunti mentre a me ne sono stati sostratti ci ho detto non è possibile accertare allora in questa sezione si è poi verificata anche un'ulteriore ingresciosa situazione come rilevata verbale quindi sempre dal giudice che presideva la commission premesso che come risulta pagina 49 è verbale che i voti effettivamente scrutinati dovrebbero essere 861 perché i due elettori sono stati allontanati come a pagina 20 è verbale sempre che le loro schede non siano state inserite nell'urna a pagina 86 e verbali i voti validi assegnati ai candidati sindaci ammontano 810 di cui 787 reganti espressioni di voto anche sulle liste mentre le bianche e nulle complessivamente ammontano a 19 per un totale di 829 schede votate di gran lunga e inferiore rispetto al numero dei votanti riportato a verbale cioè cose incredibili fondamentalmente cioè difficile è difficile da capire difficile da seguire questo ragionamento purtroppo è così il dato degli 827 voti attribuiti alle liste è lì portato a verbale come pure quello dei 57 voti esclusivamente espressi sui candidati sindaco delle due l'una o è sbagliato il dato dei voti attribuiti alle singole liste ovvero quello dei voti assegnati ai soli candidati sindaco infatti se 57 sono i voti espressi solo per il candidato sindaco quelli da attribuire complessivamente alle liste dovrebbero essere 785 e non già 827 in disparte tale macroscopico vizio i voti attribuiti ai candidati sindaco come indicati a pagina 50 e verbale sono chiaramente erronei in prima battuta in coerenza con i risultati incartati nelle tabelle di scrutinio erano stati riportati i seguenti dati pesce voti 104 mutali passi voti 521 la porta voti 137 serra voti 82 incredibilmente tali dati si ripete coerenti con le tabelle di scrutinio sono stati cassati e ad essi sono stati sovrapposti i seguenti dati pesce voti 57 mutali passi voti 563 la porta voti 143 serra voti 29 quindi noi non possiamo è inevitabile fare un ricorso al tar quando emergono queste incongruenti io questo dico a chi ci ha dita come volete portare il paese nel caos no è un caos sui verbali elettorali snocciolare questi dati sui 21 verbali che sono doppio originale tra non è semplice il ricorso come dicevo a 19 pagine soltanto strutturate così con la disanima dei verbali perché anche per i giudici amministrativi non è semplice prendere atto di questo e ovviamente noi che cosa io ho fatto un esempio di questa che è una delle sezioni più diciamo problemarie ma ce ne sono ce ne sono altre c'è la 7 faccio un esempio della 7 faccio un esempio anche della 5 come voto di registrazione iniziale perché ribadisco ormai la giurisprudenza è costante nel ritanere che ci sono delle attività che non possano più essere verificate nemmeno al tar perché l'entrata come dicevo prima delle schede nel seggio si può verificare all'atto del seggio non ci sono più dati è una sequenza di errori che non è più rimediabile anche avanti al tar e quindi in quel seggio fondamentalmente la giustizia sostiene che vanno annullate le elezioni almeno in quel seggio la 7 per esempio come diceva mi ricordava Massimo l'ufficio centrale pare pure abbia trasmesso i verbali questa sezione la competente procura noi non possiamo sapere qual è lo stato delle indagini se ci siano o meno delle indagini perché non possiamo procedere nemmeno ai sensi del 335 codice di procedura penale in questo momento perché è stato un atto che l'ufficio ha trasmesso appunto d'ufficio l'ufficio centrale ha trasmesso d'ufficio quindi noi non abbiamo nessun titolo per verificare in procura quale sia la situazione ma ribadisco a noi interessa la fase amministrativa per il momento dicevo a pagina 8 del verbale della 7 faccio questi esempi poi non credo di andare ovvero perché se no è anche difficile carpire poi magari lo pubblicheremo questo ricorso in un modo o in un altro anche di concerto con i giornalisti perché sono 46 pagine diventa pesante anche ascoltarmi mi rendo conto e mi scuso però questo è c'ho premessa pagina 8 è riportato in 1336 il numero delle schede consegnate alla sezione nel relativo verbale a pagina 10 del verbale non è però attestato e tale numero corrisponde effettivamente a quelle ricevute risultando cancellata sia la voce non corrispondono che quella corrispondono cancellature di tutti i tipi nel relativo verbale a pagina 10 viene indicato in 1198 gli elettori iscritti alla sezione 131 le schede avanzate 1198 le schede firmate dagli scrutatori il che porterebbe a ritenere che le schede effettivamente consegnate siano state 1329 e non già 1336 come indicato nel verbale di consegne guardate sembra poco 7 schede 7 voti sono fondamentali se non si sa a che fine abbiamo fatto queste schede diventa un problema cioè un problema che si può decuplicare come nuvere ancora di più se diventano schede ballerine ovviamente io non mi pronuncio perché non ho non ho contezza di quella che sia stata la situazione a pagina 1198 sono 100 sono 1198 le schede bollate a pagina 27 sono 810 i votanti a pagina 29 sono 526 le schede autenticate non utilizzate per la votazione per la votazione dunque la somma 1329 delle schede autenticate 1198 delle schede avanzate 131 è inferiore alle schede indicate in consegna 1336 il numero delle schede complessivamente autenticate 1198 non corrisponde alla somma 1336 delle schede autenticate utilizzate 810 e delle schede autenticate non utilizzate 526 in questo seggio il candidato che ha vinto ha ottenuto 406 voti in questa sezione è emersa un'ulteriore grave anomalia che getta ancora di più ombre sul procedimento elettorale infatti i votanti sono stati 810 le schede bianche nulle 24 con un residuo di schede valide di 786 a pagina 50 e verbale risultano attribuiti i seguenti voti ai candidati sindaco pesce 179 mutali pazzi 406 la porta 151 serra 70 per un totale di 806 voti or bene il totale dei voti espressi dove si accettano tali dati sarebbe di 830 806 più 24 in presenza di soli 810 votanti cioè siamo parlando di 830 voti e 810 votanti quindi è una motivazione che ha portato il dottore Saporiti giudice togato di ruolo del tribunale Vallo della Lucana con funzioni di presidente di tribunale nella qualità di presidente della commissione ricordiamolo a inviare anche questa scheda anche questo seggio all'autorità competente come sempre lui ha detto perché poi non si è sbilanciato perché dice è l'ufficio e se ne occupa non ci ha dato risposta noi abbiamo chiesto nei giorni successivi perché questa è stata tra le prime cose che è emersa però ovviamente c'è una riservatezza in questa fase che poi potremo un giorno appurare se la procura riterrà da vedere altro rispetto agli errori in presenza quindi va detto che per acconciare i dati a pagina 86 e verbali i voti complessivamente ai candidati sindaco sono passati a 786 cioè i voti da 830 sono passati a 786 dai calcoli veniva 830 cioè sono delle situazioni di incongruenze completamente incredibili per una serietà elettorale io non mi rendo conto come non giudico ma credo che il ruolo di presidente di seggio è un ruolo e io ricordo quando ero ragazzo veniva ricoverto da persone stimate e stimabili in tutti gli ambiti della vita civile soprattutto c'erano avvocati c'erano segretari comunali cancellieri cioè persone avvezze ai procedimenti ai regolamenti probabilmente le persone sono demotivate c'è una burocrazia elettorale che andrebbe rivista tutta come i procedimenti elettorali andrebbero riviste come come le norme in materia del tuo andrebbero riviste io mi farò promotore con con onorevoli che possiamo contattare anche di una di una proposta di riforma legislativa relativa alla alla ineleggibilità perché noi abbiamo è sul discorso dal fatto elettorale abbiamo casi di ineleggibilità che abbiamo che abbiamo sollevato ma a prescindere dai nostri casi l'ineleggibile che emerge tale sia in sede di consiglio che in sede giudiziaria in questo caso va a dita la giustizia ordinaria civile per l'ineleggibilità non toglie nulla alla lista nel senso la persona ineleggibile si candida pur essendo ineleggibile con la sua posizione di forza e di potere in loco si candida i voti vengono attribuiti alla lista e pur se cassato come ineleggibile i voti restano alla lista quindi è tutta la materia la norma che andrebbe rivista e quindi se qualche onorevole conosciamo avrà il coraggio di proporla questa riforma noi ci lavoreremo sopra ma facciamo un piacere all'Italia e agli italiani non all'agropoli perché è una cosa incredibile c'erano stati dei tentativi di qualche corte di pronunciarsi anche nella sottrazione però poi i ricorsi le corti superiori fino alla corte costituzionale hanno detto no questa è materia se la dovete il legislatore purtroppo il legislatore in queste dinamiche forse non vuole regolamentare perché faccio un esempio il procuratore della repubblica incompatibile si candida si candida i voti restano alla lista poi si dimette giorno stesso non fa arrivare nemmeno la linea di LGBT la mozione la sfiducia in consiglio e questo è assurdo no? o aboliamo proprio l'istituto delle linee LGBT oppure provvediamo diversamente questo è solo un caso per non dediarmi con i numeri ma io penso che abbia dovuto una visione di quello che è il nostro ricorso al TAR noi ovviamente date le incongruenze come abbiamo continuato a chiamarle così come l'aveva chiamato il presidente dell'ufficio centrale chiediamo chiediamo l'annullamento del verbale dell'operazione dell'ufficio centrale e quindi tutti gli atti connessi chiediamo l'annullamento di tutti i verbali degli uffici elettorali di sezione quindi dall'1 al 21 con espressa richiesta pure di verificazione delle schede scrutinate del materiale contenuto nei plichi rimessi da ogni singola sezione elettorale nonché di quant'altro il TAR riscontrerà per quanto possa occorrere quindi è tutto quello che il TAR reputerà di 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 sanzionare in un certo modo noi il 26 il 26 ottobre si può già procedere con la decisione perché il il ricorso segue una via più veloce degli altri ricorsi amministrativi giustamente perché non si può rimanere nel limbo dell'incertezza il 26 ottobre questo soltanto il TAR può intervenire su tutto può intervenire su alcune sezioni come reputerà come reputerà però qua stiamo parlando di di una verifica ti leggo le conclusioni io ti posso leggere le conclusioni così ti rendi conto di quella che è la nostra richiesta circostanziata praticamente si chiede infine nell'eccellentissimo collegio io vorrei no questo scusa ma abbiamo anche chiesto delle richieste istruttorie ma il prefetto può sospendere l'attività del consiglio comunale no difficilissimo ma nelle nuove ci può durare con la decisione no è difficile se arriva a tanto non si sospendono i consigli comunali addirittura con profili di delinquenza di associazione nell'alto salernitano non credo che si possa arrivare a tanto non ci sono le motivazioni c'è la via amministrativa da poter percorrere il prefetto attenderà quello che dice il tar e poi nel caso il consiglio di stato richieste istruttorie abbiamo fatto i vizi contestati sono dimostrati dagli stessi verbali sezionali per tal fatto potrebbe anche rilevarsi del tutto inutile l'indagine istruttoria proprio per andare più veloce nel caso in cui votesse eccellentissimo tribunale lo dovesse ritenere invece necessaria si chiede l'acquisizione di tutto il materiale consegnato dalle sezioni elettorali anche della copia dei verbali sezioni rimesse alla prefettura e conseguentemente di voler disporre verifica delle schede autenticate utilizzate per la votazione di quelle autenticate non utilizzate nonché di quanto utile ed indispensabile ai fini della decisione per le sezioni numero 3 7 13 14 16 e 21 nei termini indicati nel secondo motivo si chiede anche la verifica delle schede per l'attribuzione dei voti ai singoli candidati sindaco alle singole list con riserva di motivi aggiunti va tenuto conto che sono state evidenziate una moltiplicità di irregolarità vizianti commesse nel corso delle operazioni elettorali in 20 delle 21 sezioni in cui è ripartito il corpo elettorale e che solo per riportare i dati in punto di fatto rilevabili da verbali sono state necessarie 19 pagine da 4 a 22 questo per essere autorizzate allo sforamento dei termini dimensionali del ricorso che cede quella che è il format diciamo per il TAR le questioni trattate hanno investito l'intero procedimento e quindi che cosa chiediamo si conclude per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati del conseguente annullamento delle operazioni elettorali nelle sezioni da 1 a 21 e del verbale di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio centrale insediato presso il comune di Agropoli in data 14.6 2022 le operazioni si sono conclusi in data 24.6 per le elezioni amministrative tenute sul comune di Agropoli nel caso Codesso eccellentissimo tribunale non voglia disporre l'annullamento totale delle elezioni ovvero non imponga la rinnovazione delle operazioni di voto per le sezioni 3, 7, 13, 14, 16 e 21 voglia procedere alla correzione dell'attribuzione dei voti ai candidati sindaco e alle loro liste e ai loro collegati così come richiesto nel presente ricorso questa enunciazione specifica di queste sezioni ultime che ho nominate perché le altre partono da un dato inesistente di seggi di schede verificate all'inizio è impossibile controllarle per noi in quelle là bisogna effettivamente tornare al voto riassumendo proprio poi è ovvio che un ricorso del genere va letto e riletto quindi per tutti gli interessati noi ci concerteremo come pubblicarlo a questo punto anche dando diciamo una una mano a chi invece potrà un controricorso che comunque si difenderà però a questo punto converrà a renderlo pubblico questo ricorso vediamo come ribadisco le motivazioni i tre motivi fondanti sono sono tanti voglio dipende da voi fate volete fare delle domande come giornaliste vogliamo procedere come ci spiega il silenzio di chi diciamo ha usufruito queste incongruenze che oggi sta amministrando guarda Sergio questo è un giorno triste per la città noi non vorremmo essere qua perché non abbiamo odi non abbiamo rancore la popolazione ci ha dato il ruolo di minoranza quindi la maggioranza non si può permettere di darci nulla tranne il ruolo che ha stabilito il popolo che è quello di controllo e noi lo facciamo in maniera onorevole come vedi siamo insieme questa mattina qui il popolo di Agropoli va difeso perché un magistrato togato ha riconosciuto che ci sono stati dei brogli io desidero che questa città e tutti i cittadini i 6 mila che non sono andati a votare il 49% che l'hanno votato io desidero che non si sentono cittadini della città dei brogli perché in altre realtà i cittadini purtroppo portano addosso questa macchia terribile che va descritta come criminosa allora se ci sono stati degli atti che a questo punto sono delinquenziali o se non sono stati non deliberati questa ombra va tolta alla nostra città e anzi i cittadini agropolesi dovranno farsi parte l'esa di tutto questo e non solo se la magistratura agisce per nome e conto del popolo noi ci aspettiamo che faccia chiarezza di tutto questo perché se noi non abbiamo giustizia allora vuol dire che questo paese è condannato a queste voci a queste ingiurie di cittadini onesti ora l'ho detto prima essere cilentani non è una dieta è uno stile di vita è l'appartenenza a persone oneste e laboriose che hanno costruito un futuro per bene per i loro figli e noi siamo orgogliosi e dobbiamo essere orgogliosi di questo allora io dico se c'è una parte malata della società che si riconosce in un disegno delinquenziale va isolato ed estirpato come si farebbe con un cancro prima che diventa metastasi perché queste non sono cose lievi che si possono addibitare a non aver visto non aver sentito non si può accettare che in una città come la nostra non si faccia che parlare di voti spariti di voti e non lo diciamo noi un magistrato togato presiede una commissione di controllo elettorale e manda due sezioni a Vallo della Lucania fa egli stesso se vogliamo un ricorso nei fatti e non si tratta di due sezioni in cui ci sono tre quattro voti si tratta di sezioni che se dovessero andare a rivotare anche solo quelle due sezioni si tratta di migliaia di voti in un'elezione che ha visto la vittoria per pochi voti non so se vi rendete conto quelle due sezioni sono circa duemila voti non si scherza e quindi è chiaro che se andassero a rivotare solo quelle due sezioni che noi vogliamo non avere ragione abbiamo accettato di fare ricorso insieme all'avvocato Raffaele Pesce perché era la persona più toccata perché era il secondo e quindi per pochi voti poteva andare a ballottaggio allora noi abbiamo il dovere di fare quello che il popolo l'ha voluto che noi facessimo è di grande importanza siamo l'opposizione siamo la minoranza dobbiamo mettere in evidenza se questa città può essere toccata da ombre ma io dico il silenzio della maggioranza ma che vuoi che dicano io credo che la maggioranza in primis abbia dovuto perché se una persona è onesta pulita trasparente ma che paura ha che si facciano dei controlli anzi avrebbero dovuto chiedere i controlli perché loro dovevano dire guardate noi siamo stati eletti senza ombra di dubbio perché questo dubbio questa ombra se non si fa chiarezza rimarrà sulla loro storia non sulla nostra io se fossi uno di loro avrei chiesto io di rivedere i voti avrei chiesto io che la mia elezione fosse un'elezione trasparente perché questa è la democrazia questa è la libertà questo è il futuro che vogliamo dare a questa città non sporchiamo l'immagine di una città che è cilentana noi siamo dei cilentani persone per bene non apparteniamo ad altre società lontane dalla nostra realtà e non ne vorremmo neanche sentir parlare mi dispiace che non abbiano colto il momento di libertà e di democrazia che questa minoranza sta offrendo anche a loro credo che poi comprenderanno e ci ringrazieranno per questo prima dell'intervento prima dell'intervento di un momento prima dell'intervento di Massimo volevo evidenziare alcune convengo come ho detto dalla dottoressa Serra collega di minoranza scusami volevo aggiungere solo una cosa alla domanda guarda che noi non abbiamo finito con questo ricorso nel senso che c'è un altro ricorso invece fatto in cui ci sono delle sezioni che noi abbiamo segnalato al Presidente ti faccio un esempio la sezione 6 dove ho votato io e la mia famiglia erano stati riportati dai nostri dai ragazzi che facevano i controlli 14 voti noi della mia famiglia stretta e credo che sappiamo leggere e scrivere ci siamo trovati con 4 voti su 6 votanti della mia famiglia soltanto allora noi questo lo chiederemo con al Tribunale perché che cosa è successo in quella sezione prego no no figure volevo solo dire il Tar non interviene su aspetti eventualmente criminali e delinquenziali chiariamo questo io per questo mi attengo alla per deformazione anche professionale a incongruenze non ho mai parlato di BOM ma di incongruenze perché stiamo parlando di ricorso al Tar poi la verifica è partita ovviamente d'ufficio della procura della repubblica su allora io sto parlando dell'ombra che è calata sulla città questo è il risultato popolare che non può essere nel tuo ricorso dobbiamo far capire questa differenza perché se no si aspettano altro i cittadini rispetto al ricorso al Tar non può emergere in sede di giustizia amministrativa assolutamente no ma questo è chiaro a tutti non è chiaro non tutti hanno la cognizione di quello che sia la giustizia non tutti hanno avuto modo di studiare di interpretare quella che è la giustizia che ha dei settori diversi e quindi noi dobbiamo far rendere far prendere una presa di coscienza anche ai cittadini di interessarsi anche a queste dinamiche che sono dinamiche diverse che vanno seguite tutte no volevo solo sì in questo quadro il 25 settembre nominare il presidente di seggio da Cropoli sarà molto difficile io spero che chi si passi la mano sulla coscienza tutti quelli che hanno fatto istanza di essere nominati presidente di seggio perché è il ruolo base della democrazia da quel seggio parte la democrazia a livello cittadino come a livello più alto e quindi devono essere consapevoli di avere le capacità e la responsabilità di gestire il procedimento elettorale e non farlo per quella minima indennità che c'è ma ritrovare il ruolo fondamentale di prestigio che ha sempre avuto il presidente di seggio volevo solo ricollegandomi a quello che stavo dicendo di quelle sezioni che sono affette da vizi secondo noi insormontabili e vi faccio questo passo e poi mi fermo perché sennò diventa sembra quasi fredda però questo è il diritto della giurisprudenza quanto alle sezioni 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 e 20 siamo parlando di 10 sezioni come dicevo prima come visto i presidenti di seggio non hanno determinato il numero delle schede ricevute dalla prefettura ne hanno attestato che il numero di quelle effettivamente ricevute concordasse con quello indicato nel verbale di consegna allora si tratta di un'omissione grave perché da verbali di sezione modello specifico si chiama 19 com il presidente del seggio dopo aver attestato il numero delle schede da autenticare in misura corrispondente al totale degli elettori iscritti nella sezione deve svolgere la seguente attività e si trascrive un verbale che in parte è prestampato il presidente quindi apre il pacco delle schede distribuisce tra gli sfruttatori un numero di schede pari a quelle da autenticare che sono il numero dei votanti conta le schede avanzate che risultano pari a x verifica se il numero complessivo delle schede effettivamente consegnate al seggio pari a quelle da autenticare più quelle che avanzano corrisponde oppure non corrisponde cancellare la circostanza che non si verifica invece alla 7 come abbiamo visto sono state cancellate tutte e due al numero quindi corrisponde non corrisponde al numero di schede specificato nel verbale di consegna se non c'è questo passaggio noi non sappiamo quante schede ci sono quante schede vengono utilizzate e quante schede restano e quante schede volano o ballano come si dice nel gergo dunque il decreto è presente della Repubblica 570 del 1960 che è la norma elettorale al fine di garantire la trasparenza delle operazioni elettorali la segretezza e la genuinità del voto stabilisce in modo vincolante il procedimento attraverso il quale devono essere compiute queste precitate verifiche le quali una volta annotate concorrono a formare progressivamente il verbale definitivo di sezione che soltanto in questo modo diventa atto pubblico conforme al modello voluto proprio dal decreto del Presidente della Repubblica nel caso nostro tale verifica nelle sezioni in cui si è detto queste che nominavo sono dieci è stata completamente omessa con la conseguenza che secondo gli iscriventi difensori dicono gli avvocati le elezioni possono essere direttamente annullate senza necessità di istruttoria per la seguente considerazione in presenza di attività amministrativa discrezionale la giurisdizione di merito del giudice amministrativo dice l'articolo 134 si estende unitamente alla legittimità anche ai profili di convenienza ed opportunità del provvedimento impugnato se ci sono degli errori il giudice amministrativo può intervenire a sanarli in questo modo il giudice amministrativo può sostituire legittimamente la sua valutazione a quella precedente emessa dalla pubblica amministrazione questo è l'articolo 7 del codice del processo amministrativo nel caso di specie viceversa la verifica delle schede ricevute dai presidenti di seggio costituisce attività vincolata a fronte della quale però si registrano le omissioni di cui si è detto segue l'eventuale verifica disposta dal giudice amministrativo non riguarderebbe una valutazione già compiuta dai sui indicati presidenti cosa che ovviamente rientra nei poteri della giustizia amministrativa bensì delle omissioni che non possono essere più ricostruite ex post perché l'eventuale verificatore pur agendo come presidente del seggio non potrebbe comunque ricostruire con l'assoluta certezza richiesta invece dalla rilevanza pubblica della materia controversa una tale delicata realtà giuridica non si può mai sapere quante schede c'era in quel momento a quell'ora negli stanni in cui sono state aperte nemmeno avanti a una verifica di tribunale non si sa quindi per questo noi diciamo il dato grave oltre agli errori grossolani di cancellatura di abrasioni e di sottrazioni di voti a noi tre cioè fondamentalmente è questo il dato fondamentale che non c'è assoluta congruenza non c'è possibilità di verifica se non successiva partendo da un dato astratto e quindi noi ci troviamo con la speranza ovviamente che il tribunale amministrativo si renda conto della grossolanità di come voglio essere buono come siano state portate avanti le operazioni abbiamo anche diciamo questo precedente che tutti quanti pensano abbiate letto sui giornali che è Latina che è stato confermato dal Consiglio di Stato e quindi si voterà a Latina mi sembra il 4 settembre poi come diceva Sergio certo il 25 settembre ci sarà un altro incontro elettorale questo prima del nostro della discussione del nostro ricorso però a noi sta a cuore la verità noi noi agiamo perché emerga la verità non siamo contro nessuno non è un processo a qualcuno o un'azione contro qualcuno qua è per fare emergere la verità l'unico modo è questo come ha sollecitato lo stesso presidente che sta qua disse a voi io mi rendo conto sono 57 e 104 io più che mandare gli atti sono 57 voti depennati sono 104 voti depennati 57 io più che prendere atto di questi errori su tutto il doppio verbale trasferire le carte all'autorità competente non posso fare lei sa benissimo che le schede non le posso aprire le può aprire soltanto il TAR ma poi abbiamo preso atto e qua non c'è proprio da aprire qua c'è c'è una c'è 10 sezioni nelle quali il dato apri o non apri non c'è il dato iniziale e quindi molti mi pare che abbiano rinunciato decine quasi forse 60 addirittura rinunce però non c'è un dato certo fino a che all'ultimo giorno il sabato sono stati sono l'ufficio elettorale tramite il commissario che c'era il commissario ha nominato all'ultimo momento anche due presidenti non non proposti non nominati dalla corte d'appello disponibili e comunque aventi i titoli per poter i requisiti per poter operare come la chiarezza allora in questo ambito noi possiamo solo prendere atto come dicevo prima che la normativa ha dei vuoti dei vuoti incredibili perché non ci sono incompatibilità tra ruolo di presidente e familiari candidati credo sia una questione di correttezza e di opportunità che a mio avviso la correttezza e opportunità viene prima di qualsiasi norma che mi imponga o meno di di agire in un certo qual modo se si sfoglia il numero dei 21 i seggi elettorali con segretari presidenti escludatori si vede che tantissimi sono legati a candidati sono legati alle liste anche con ruoli anche con ruoli a partite anche con ruoli di presentatori di listo rappresentanti elettorali sono anche beneficiari di determini proprio nei giorni appena successivi però è consentito dalla legge purtroppo è questo quindi io perciò parlo di opportunità e certo non sta a noi verificare che se c'è un disegno di nomine e di gestione perché poi parenti negli specifici seggi dove i parenti avevano più voti o meno voti i parenti candidati questo non sta a noi verificarlo c'è un Fumus che ovviamente non è non è non è limpido cioè non non è una situazione limpida però sono aspetti che non riguardano la situazione amministrativa tant'è che non sono inseriti proprio nel ricorso perché il ricorso vuole essere asettico e specificamente amministrativo è inutile inserire ulteriori ulteriori richieste alle quali il tribunale amministrativo non può non può rispondere che non ha propri mezzi in questo caso ovviamente io credo che nel momento in cui si apre una indagine proposta dallo stesso presidente della commissione allora si saranno gli inquireni se ci sarà un'indagine a verificare tutto il verificabile perché è normale che ci sono delle cose che a noi non sono ancora chiare anche per la dinamica delle continue rinunce perché tante rinunce perché io mi scrivo nel ruolo dei dei presidenti e poi rinuncio rinuncio poi c'è la domanda della persona che magari è vicino o più lontana da noi più vicina e ricoprono questi ruoli però al momento noi confidiamo in una verifica di quello che è il dato amministrativo come diceva per dire come ribadisco noi siamo insieme in queste cioè ci concertiamo nella barra avanti andremo verificheremo se perseguire anche altri tipi di giustizia ma verificheremo prima quella che è la situazione nata in quest'aula consigliale con la scelta del del presidente della commissione di di invitarci nel caso ad adire il TAR e di trasmettere lui d'ufficio non poteva fare altrimenti a mio avviso Maffaele posso fare una domanda certo volevo capire una cosa visto che parliamo di incongruenze quindi non di proghi mi sorgeva spontaneo chiedere ci sono incongruenze a discapito della maggioranza non si possono valutare in questo momento qua stiamo valutando incongruenze totali nei verbali non risulta nessuna cosa che va a discapito loro nella 21 era a favore loro il dato è sottratto a noi pare di no però noi nello specifico senza verifica delle schede non possiamo capire se sono effettivi i voti o non sono effettivi ma potrebbe essere pure viceversa per noi o per loro quindi non non è questo il caso è chiaro che quello che emerge emerge in difetto a noi la chiarezza si fa per questo sia per noi che per noi ma chiarezza per la popolazione per la città per il buon nome della città non per altro ma se c'è una sottrazione di voi di che sono che sono stati fatti i numeri che parlano alla fine no? è certo l'abbiamo detto prima la 21 ma non sono verificate vanno verificate quindi non abbiamo contezza il tar viene adito proprio per fare chiarezza prendo io la parola buongiorno a tutti innanzitutto voglio fare i complimenti ai nostri due legali due legali agropolesi l'avvocato Antonello Scuderi ed Elio Cuoco vi posso dire soltanto che hanno fatto un lavoro eccellente mettere in risalto tutti questi dati che Raffaele vi ha rappresentato con grande difficoltà perché chi segue segue i numeri diventano veramente numeri all'otto però come rappresentava Raffaele con il modello del registro dei verbali che è il modello 19.com che con estrema semplicità si va sul sito del Ministero degli Interni e si trova questo fac simile solo così con il ricorso alla mano si può avere un riscontro e capire le grandi incongruenze che Raffaele vi ha appuntualmente chiarito noi come gruppo destinazione Agropoli siamo a sostegno dell'iniziativa lo ribadiamo con forza con il consigliere Santosuos e con il consigliere Bufano pieno sostegno al ricorso tutto quello che sarà conseguenziale anche dopo la decisione del Tar noi saremo a sostegno come già evidenziato il tutto è stato portato in esame anche in procura con la sezione 7 e la sezione 21 credo che anche altre sezioni devono essere monitorate per capire le incongruenze che credo che chi si è preso la responsabilità in questo caso il Presidente di Seggio di non seguire un modello che con estrema semplicità basta metterselo avanti e seguire le operazioni ha voluto poi con molta approssimazione violare violare quella che è la legge noi riteniamo che il Tribunale Amministrativo non deve fare nient'altro che annullare l'elezione del 12 giugno e riportare la città di Agropoli al vuoto grazie poi se ci sono domande sono a disposizione preciso una cosa io saluto gli amici e colleghi Antonello Scuderi ha fatto bene Massimo a ricordarlo e Elio Cuoco che c'è stato anche vicino nei giorni della Commissione perché sono stati gli 11 giorni di lavori della Commissione elettorale vi dico sono stati i più pesanti della campagna elettorale che non è finita a questo punto se siamo ancora qua a parlare di ricorso al TAR sono stati pesantissimi e mi dispiace soprattutto per i ragazzi che sono stati sempre con me e che saluto che sono rimasti essere fatte di quello che emergeva è una cosa molto grave noi dobbiamo dare speranze di serietà ai ragazzi ai giovani che si avvicinano alla politica che hanno la faccia di candidarsi hanno la faccia di candidarsi dove non si gestisce il potere quindi sono rimasti con me sono vicini mi sono stati vicini però è stata una prova una prova importante anche per loro e l'abbiamo superata però non voglio non vorrei che si allontanassero dalla politica per questi eventi che possono possono far sì che i migliori si allontaniano guardate al Massimo Massimo che conosce benissimo diciamo la macchina amministrativa del governo ma soprattutto il sistema che in auge e qui è del governo ti aspettavi che potessero arrivare a tanto e qui lo schifo è chiarissimo Sergio io ti prego noi chiamiamo sistema quello che non conosciamo quello che sono le incongruenze lo stiamo rilevando i legali l'hanno ben rappresentato al tribunale amministrativo per quello che è la mia esperienza passata nelle passate amministrazioni non si è mai verificato qualcosa del genere io sono stato sempre lontano da queste dinamiche e vi posso dire che questa esperienza ultima mi ha portato ad essere puntuale nel valutare il registro dei verbali delle operazioni che si fanno nelle singole sezioni la nomina dei presidenti di seggio a me non è mai interessata chi erano i componenti è chiaro che il contorno prima si parlava di tanti rifiuti e all'ultimo momento sono entrate delle persone che sono vicine a dei candidati io credo proprio per un discorso di di rimanere terzo la persona che veniva investita da questa da questa chiamata doveva astenersi e non accettare però ognuno di noi fa delle scelte si prende la responsabilità il dato oggettivo se ci sono le violazioni la legge è chiara si devono annullare le elezioni aggiungo solo una cosa per far riflettere sull'andamento dello spoglio elettorale noi abbiamo visto festeggiare quando mancavano ancora 2000 voti allo spoglio cioè abbiamo abbiamo anche avuto delle difficoltà con i nostri rappresentanti di lista nelle sezioni perché il nostro movimento è fatto di persone più che altro nuove giovani inesperti che sono state anche sopraffatte non si sono fatte valere un dato importante non c'è una contestazione di voto nei 21 seggi registrata dai presidenti non è un dato che fa il bene della democrazia questo qui è stato voluto si vabbè poi vediamo poi facciamo non posso credere che non ci sia stata contestazione nei seggi però molti seggi sono lasciati sono stati lasciati solo perché visto che si festeggiava già con un numero ormai di voti così ancora distante da quello che era la sicurezza molte persone sono state distolte anche dal servizio nel seggio se ne sono venuti in sede e quindi gli altri hanno festeggiato però tutto questo è lecito iniziare a festeggiare con uno scarto di 2000 voti ancora da verificare questa è una scelta con i festeggiamenti in piazza io ricordo solo che stavo dando un'intervista e avevo anche salutato il candidato attuale sindaco per correttezza proprio istituzionale ma invece sono stato sopraffatto dalla musica a tutto volume mentre stavo dando un'intervista sullo schermo in piazza e non erano ancora chiusi i seggi ci sono dei seggi che hanno depositato tutto in cartame la notte inoltrata e quindi voglio dire poi fuori dal ricorso come diceva anche il Vila e come ci siamo detti con Massimo ci sono delle situazioni di anomalia grave riscontrata riscontrata con testimoni nei seggi sui quali dobbiamo fare il punto della situazione perché quella è un'altra strada da seguire è che nulla dà e nulla toglie in questa dinamica amministrativa ma è una scelta che va sulle responsabilità personali di alcuni che hanno riversito il ruolo di pubblici ufficiali forse non se ne rendono conto che i presidenti di seggi sono pubblici ufficiali nelle cui mani sta la democrazia e su questo poi concerteremo altre iniziative a prescindere da quelle che ha preso il presidente della commissione elettorale perché noi sappiamo bene che nella verifica dei voti si parte dal voto al sindaco se c'è una croce per voto di giunta un sindaco non si parte dal voto di preferenza del del candidato e si lascia il voto di preferenza al candidato lista e sindaco della lista quando c'è un'altra croce su un altro candidato sindaco dato che noi abbiamo anche prove di questo tipo procederemo però a noi in questo momento interessa la verità amministrativa elettorale ad Agropoli nelle elezioni del 12 giugno questo lo dobbiamo a tutti i cittadini sia quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato lo dobbiamo a noi stessi che ci siamo impegnati lo dobbiamo ai giornalisti che ci hanno seguito nel corso della compagna elettorale lo dobbiamo alla democrazia alla repubblica e tutte quelle persone che hanno combattuto perché noi avessimo questa possibilità l'elettorato attivo e l'elettorato passivo questa è la casa per noi la casa della cittadinanza tutta e quindi invito sempre a seguire i consigli comunali a essere presenti perché è fondamentale io ho scelto di fare la conferenza stampa qui perché questo è il luogo della cittadinanza quindi della minoranza della maggioranza non è il luogo dell'amministrazione che ha vinto ma è il luogo di tutta Agropoli e quindi io vi invito ad essere presenti ai lavori del consiglio comunale sempre poi vi informeremo sia sulle commissioni che andremo a istituire insieme alla maggioranza i lavori che ci saranno e su tutto il nostro lavoro di consigliere di minoranza fino a quando saremo consigliere di minoranza perché se il Tarro ci dà una sì sì se il Tarro ci dà la soddisfazione di accertare la verità che è quella che noi crediamo sia probabilmente sederemo diversamente a breve sederemo diversamente in questo consiglio una domanda più spontanea se si verifica questo Raffaele mi serve un assist la porta serra e pesce saranno tutti e tanti della maggioranza vincendo le elezioni sì come no con nuove elezioni sì è chiaro penso proprio di sì noi abbiamo io innanzitutto mi era mancato di ringraziare veramente i ragazzi della nostra città futura che sono i gruppi che ci hanno accompagnato in campagna elettorale sono stati negli 11 giorni sempre presenti grazie a loro ed è per loro anche Raffaele che noi siamo vicini a tutto questo perché noi crediamo nella politica pulita quella rinnovata nei giovani certo le quattro liste le persone che si avvicinano in maniera pulita alle elezioni e allora noi ve lo dobbiamo questo perché esiste la legge non è vero che tutto passa inosservato ogni azione aspetta una reazione quindi nessuno si senta libero da poter fare il comodo proprio o di non fare le cose con professionalità e con chiarezza noi Raffaele ti annuncio ma lo annunceremo in questi giorni alla stampa che abbiamo fatto un movimento che è un'associazione nella quale stanno convergendo tutti quelli che ci hanno accompagnati le elezioni il nostro gruppo rimane compatto e quindi noi ci auguriamo che la città di Agropoli abbia non solo la certezza la sensazione ma che sappia di essere una città dove se ci sono dei sistemi vengono messi dove devono stare nell'angolo che meritano per fare un momento Raffaele eri un po' fuori dalla politica da molto tempo sì da molto tempo ora in questo mese in questo mese e mezzo avverti che la città è oppressa da un sistema di potere camaleontico forte diciamo deciso con l'occupazione dei posti con l'occupazione con la gamba e soprattutto con la città che è a un sbando mentre loro occupano tutti i posti di potere ma è certo è certo ho combattuto in campagna elettorale questo sistema di visione della politica perché noi abbiamo fatto altro noi abbiamo fatto una campagna elettorale innanzitutto durata sei mesi noi eravamo nei quartieri già mesi prima io ho lanciato il simbolo del movimento il 6 gennaio la data del mio del mio compleanno nemmeno a farla apposta con i ragazzi del movimento che mi sono stati vicini anche come grafica come tutto noi abbiamo fatto tutto tra di noi perché siamo un movimento è ormai una certezza il nostro movimento è una certezza ormai per Agropoli un'alternativa che c'è che si crea con persone di tutti i tipi di tutte le espressioni sociali economiche che non reggono più questo tipo di politica a cui facevi riferimento che occupa solo il potere che non trasmette nulla e che non dà nemmeno soluzione ai problemi perché si vede quello che è il paese non si può dire che sia una nuova amministrazione no se è un'amministrazione retta dall'ex assessore al bilancio e tu sai bene che passa tutto da quell'assessorato tutto quello che si può e non si può fare passa da lì perché è una questione anche di contabilità non si può dire che questa sia una nuova amministrazione non si può dire che siano stati ben disposti nei confronti di una minoranza che ha il 50% il 49% dei voti e che rappresenta metà dei votanti e non solo non si può dire che ci si siano comportati in modo più aperto anche nella nomina del sottogoverno sono prebende date ai non eletti come al solito accontentati in questo modo o con incarichi legali o tecnici o nel parastato nel sottogoverno che molto spesso porta ancora più potere che non il governo stesso e quindi come dire io sono stato non mi sono candidato per 15 anni ho scelto di intraprendere questa strada tre anni fa con amici poi purtroppo il covid ci ha bloccato per due anni di fatto senza rapporti sociali ce l'abbiamo messa tutta dal 6 gennaio che siamo andati avanti fino a poi alla campagna elettorale abbiamo avuto un riscontro importante è chiaro sia la lista le due liste una in particolare quella del movimento che tutti davano per spacciata che non prendesse nemmeno 800 voti ne ha preso circa 1400 da tutte e due liste io l'ho doppiata quindi ho una grossa responsabilità in questo momento di continuare ovviamente di dialogare con tutta la minoranza tra l'altro sono persone che conosco da sempre ho questa fortuna ci conosciamo da sempre ognuno ha un'esperienza politica amministrativa che può mettere a disposizione di questo gruppo che è diviso in gruppi diversi ma abbiamo già dato un'prova di essere compatti nei banchi della minoranza quindi io sono contento per il successo che abbiamo avuto perché è emblematico dell'insofferenza che ormai c'è ad Agropoli nei confronti di questi atteggiamenti innanzitutto di sudditanza che non vanno bene in democrazia e non vanno bene nella città noi siamo pronti a discutere sempre con tutti su programmi su qualsiasi ricerca di soluzione ma sempre paritariamente mai sudditi si chiama democrazia Repubblica Parlamentare consigli comunali assemblee questa è la democrazia il feudalesimo nel nostro territorio è finito la legge il 2 agosto 1806 ok nel decennio francese quindi io sono appassionato di storie tra domani dovremmo festeggiare la legge eversiva della feudalità Giuseppe Napoleone quindi noi siamo cittadini liberi lo dimostriamo sia nella vita che nella politica dobbiamo continuare ad impegnarci questo è perché perché fondamentalmente come movimento civico noi siamo disinteressati alle piccole cose particolari ma siamo interessati all'interesse pubblico dove viviamo abbiamo scelto di vivere la globo e dobbiamo essere parte attiva c'è poco da fare e quindi in queste banche come va il ricorso noi saremo attivissimi come lo siamo già in questi giorni protocolliamo in continuazione richieste documentali perché è anche difficile avere la possibilità di impegnarsi perché se dobbiamo ricercare continuamente documentazione sulla quale lavorare diventa un lavoro la ricerca della documentazione e questo al momento facendo delle semplici richieste protocollate come stiamo facendo poi se passano i giorni se passano i mesi diffide e poi c'è anche l'articolo 328 del codice penale quindi non è che noi siamo educati bravi buoni tradotto fessi troppo buoni no siamo semplicemente persone che rispettano i ruoli però se non è rispettato il ruolo della minoranza poi si prendono determinate precauzioni e scelte per procedere in un certo modo questo sempre con la salvaguardia di tutta la cittadinanza perché noi rappresentiamo chiunque voglia avere l'ausilio di avere una voce in consiglio comunale tutti anche chi non ci ha votato anche chi ha votato la maggioranza e vede già cose storte perché ti dico caro Sergio che noi siamo avvicinati in continuazione da persone anche che hanno votato la maggioranza oggi probabilmente c'è stato qualcuno che pensava che noi fossimo molto deboli adesso preso atto che deboli non siamo ci vede come riferimento perché noi io in particolare per il mio gruppo ma noi insieme rappresentiamo la metà degli elettori questo è un dato non è una mia idea qualcuno ha domande così magari qualsiasi tipo di domande tanto al momento non ci sono al momento non ci sono non credo che ci siano interventi di magistratura e questo non sappiamo noi se questi errori se sotto questi errori ci sia la volontarietà se ci sia il dolo se ci sia la colpa questo lo possono sapere solo le autorità che andranno a verificare e nel caso di indagare però noi non possiamo pronunciarci in merito credo che sia opportuno stesso per loro stare più tranquilli e magari occuparsi di altro e non almeno quelli che hanno addirittura depennato così i dati elettorali di fare altro nei giorni del dello scrutinio per le politiche però noi non siamo un tribunale quindi non ci sono provvedimenti non c'è niente quindi voglio dire solo una auspichiamo che ci sia una correttezza nelle prossime procedure elettorali per le politiche lo auspichiamo sperando che le persone si passino la mano sulla coscienza oppure si aggiornino prima di assumere un ruolo lo studino come c'è un elenco alla corte d'appello ma sono 20 anni sono sempre gli stessi spese che siamo tutti di agronomi sinceramente è stato a casa e ho tenuto un po' distrutto da questa situazione perché noi siamo venuti della cultura di questo in questa distanza c'è qualcuno che ci sentiva tutti io lavoro fuori a Roma sono venuto perché sicuramente la situazione in questa conferenza a Stam ma non so come chiamata è rimasto abbastanza amareggiata se qualcuno ha fatto qualcosa di legato si denuncia e il tribunale si chiama ma la seguire è solo una cosa molto politica e sinceramente di queste cose da fare noi ne abbiamo subito indietro ne sono successe fino all'altro giorno appunto per questo siamo qua proprio per dimostrare quello che abbiamo fatto con il ricorso vabbè la domanda qual'è allora questa è una conferenza a Stamba noi abbiamo aperto noi abbiamo aperto non ho capito è la domanda qual'è mi scusi la domanda qual'è è stata qualche anno fa è stata è promessa perché mancava una lista quale lista quanti anni fa la lista insieme non penso che te lo ricordi non me lo ricordo non posso ricordarmi tutto e quindi avete fatto il ricorso la mia lista anche la mia lista 15 anni noi facemmo il ricorso e fu riammessa è è è è il tar che fece e quindi noi abbiamo fatto la conferenza a Stamba perché qual'è il problema ma questa è una conferenza innanzitutto noi guardi noi siamo aperti va bene l'hanno mandato ok va bene noi guardi ma lei ha sentito cosa abbiamo detto del ricorso abbiamo snocciolato il ricorso allora non ha sentito allora come mai fa questa affermazione non ha non ha non è stato presente è arrivato adesso e allora di che stiamo parlando noi abbiamo parlato abbiamo parlato in un'ora del ricorso per rendere per far capire ai giornalisti quello che sono i dati anzi abbiamo aperto a tutti e abbiamo chiesto anche gli interventi che in una conferenza a Stamba lei mi insegna non ci sono gli interventi della popolazione ma solo quello dei giornalisti quindi probabilmente non essendo presente non si è reso conto di quello di cui abbiamo parlato e ho capito allora di che stiamo parlando la ringrazio ma cosa stiamo facendo abbiamo detto tutto quello che facciamo alla 10 la ringrazio dell'intervento ripetisco se c'è l'ultimo qualcuno che vuole chiedere qualcosa non intervenire solo polemicamente ma fare una domanda nello specifico c'è qualcuno abbiamo fatto un ricorso a Tarre l'abbiamo snocciolato quello stiamo facendo la ringrazio possiamo avere dobbiamo chiudere la conferenza mi dispiace averla chiusa in questo modo perché non è una domanda di una persona che non è stata presente tra l'altro non riesco a capire e lo so ma fare una avere questo atteggiamento senza essere presente abbiamo parlato abbiamo parlato di ricorso a Tarre abbiamo parlato di procedimenti penali aperti non lo so va bene mi sembra proprio questo e lo so e ho capito sto rispondendo a una persona intervenuta la ringrazio grazie per l'intervenuto grazie a tutti grazie a giornalisti grazie a tutti i cittadini intervenuti grazie a tutti